Siamo con Maria Mencarini, presidente della sezione di Pesaro dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Siamo qua per questa giornata straordinaria nella quale ai musei civici, a fianco della Pala del Bellini, viene posata un'opera importante. Ci facciamo spiegare perché proprio da Maria Mencarini. Sì, veramente direi che è un giorno importante, ma importante non solo per noi, ma soprattutto per la città di Pesaro, per la comunità di Pesaro, perché il dono che la nostra sezione fa alla città è un dono di bellezza, è un dono di cultura ed è un dono di inclusione. Abbiamo deciso di intraprendere questo progetto, che è stato veramente faticoso, perché è un anno che ci stiamo lavorando dietro, grazie al sostegno dei fondi dell'8x1000 della Chiesa Valdese. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato un basso rilievo prospettico della Pala del Bellini. Perché? Perché questa scelta? Perché il basso rilievo prospettico farà vedere, e quindi farà godere della bellezza della Pala, tutte le persone con disabilità visiva che decideranno di venire a visitare questo museo. Si può considerare questa vostra una nuova forma d'arte? Diciamo che è un'eredità dell'arte. In questo caso abbiamo la traduzione dell'opera d'arte, che è un fondamentale per capire appunto come poter accedere a un'opera d'arte in modo tattile. Abbiamo anche capito che è stata fatta questa scelta di fare il lavoro dal puntista proprio manuale, in un momento in cui la tecnologia farebbe quasi pensare a una scorciatoia, alla via più facile, quella della stampa in 3D. Esatto. Noi preferiamo come staff del Museo Onteros e dell'Istituto Cavazza eseguire le opere in modo manuale, proprio perché ci permette nel tempo, nelle varie fasi di lavorazione del basso rilievo, o anche di disegna a rilievo tattili, con la tecnica minolta, di testare continuamente in corso d'opera il lavoro. E questo ci permette di capire anche le eventuali correzioni, eventuali ripensamenti che si possono fare sull'opera. Oggi è la mia prima uscita da assessore alla cultura, le pari opportunità nella città di Pesaro e è una giornata molto importante proprio per la città. Sì, allora io, oltre che ai deleghi alla cultura, sport, istruzione, è anche alle pari opportunità e oggi mi piace sottolineare proprio questo aspetto, perché perlomeno nell'accezione che io voglio dare a questa delega non è solo quella dell'aspetto, diciamo, del superamento, del gap tra il genere, ma anche e soprattutto per parlare di inclusione. E sicuramente oggi l'inaugurazione di questa scultura, che consente appunto anche ai non vedenti di poter toccare con mano e non solo, insomma, quindi di capire e di percepire le bellezze artistiche, che è sicuramente anche in questo caso appunto un superamento di quelle che sono le barriere culturali e sociali.